Buongiorno a tutti e benvenuti alla Rassegna Stampa di lunedì 12 giugno. Apriamo subito la nostra giornata di notizie vedendo qual è il santo di oggi. Oggi è San Leone III Papa. San Leone è stato Papa dal 795 all'816. Leone III combatte contro l'eresia secondo la quale Gesù come uomo è solo figlio adottivo di Dio. Molto lo impegna anche la cosiddetta questione del figlioque nel credo. È lui che il 25 dicembre dell'Ottocento incorona Carlo Magno, imperatore del Sacro Impero Romano. Oggi si festeggia anche l'onomastico di Santo Onofrio, quindi auguri a tutti gli onofri e andiamo a vedere le previsioni del tempo. Abbiamo avuto una bella domenica, veramente molto bella. Le previsioni, il tempo, la situazione del tempo è asciutto sulle marche, salvo qualche locale piovasco sui Sibillini. Cielo con nuvolosità irregolare e massime fino a 26-27 gradi che sono delle massime alte. Ma purtroppo ci concede ancora oggi una bellissima giornata. Da domani, martedì, mercoledì e giovedì sono giornate di pioggia intensa con le minime che arrivano anche a 17 gradi. Riprenderà poi il bel tempo con venerdì prossimo. E apriamo la rassegna stampa del lunedì. Partiamo subito con i titoli di testa del Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico apre con un titolo di testa importante. Stress movida anche in Baia. Ancora un fine settimana di segnalazioni, ma questa volta le proteste si allargano ad altre zone. Nodo Chioschi a Ponente. Si attende l'applicazione dell'ordinanza che limerà il tetto dei Decibel. Andremo poi ad approfondire questa notizia. Continuiamo a guardare la fotonotizia della giornata. In 1995 si sono ritrovati nel podere di case bruciate. Raduno di famiglia dopo 50 anni. Ed ancora in taglio basso abbiamo Petriano, il blitz di sgarbi, di scaricari ceci, una bestemmia. Notizia sulla nostra città Fano, comunali 2024, grandi manovre per le liste civiche. E in terre roveresche, debiti nel bilancio e troppi creditori pagati in ritardo. Abbiamo poi l'ultima notizia di fondopagina. Mutilato dall'esplosione perderà pure un occhio. Sempre critiche le condizioni del 37enne romeno. Indagini sulla realizzazione dell'ordigno casalingo. Entriamo quindi nel vivo delle notizie e torniamo alla notizia che parla appunto di quello che è successo. Tutte le segnalazioni che sono state date questo fine settimana per i rumori appunto che imbaia. Allora andiamo quindi alla pagina 6. La pagina 6, ecco qua l'articolo, molto sviluppato. Gli hanno dedicato proprio tutta una pagina. Movida che rompi capo, anche la Baia si stressa. Per i decibel troppo alti, solito weekend di segnalazione, ma questa volta le proteste si allargano. Si attende l'applicazione dell'ordinanza che limerà il tetto della musica. L'altra sera alla zona di Ponente del lungomare Trieste, dove prosegue il braccio di ferro tra alcuni albergatori e gestori di chioschi, si è aggiunta la zona di Baia Flaminia, dove le segnalazioni non sono arrivate dagli operatori turistici, ma addirittura da alcuni villeggianti che hanno preso in affitto residenze per l'estate. Il nodo era la musica che proveniva dall'area dell'ex Campo di Marte, dove fino a ieri sera si è tenuta la tradizionale festa della birra. Stand spettacolo, hanno radunato per due weekend un numerosissimo pubblico, musica palla e troppo fracassona. Così è stata definita la mentele anche per la scarsità dei parcheggi, dato che l'evento ha richiamato tanta gente con auto e scooter piazzati così alla rinfusa. E torniamo sempre alla piena pagina e andiamo invece a vedere le notizie di taglio basso, il blitz di Sgarbi discarica a riceci, una bestemmia. Ritroviamo l'articolo a pagina 11, eccolo qua, il sopralluogo di Sgarbi a riceci, discarica qui una bestemmia. Il prosindaco sollecita il ministero, si moltiplicano le voci contro l'ipotesi già bocciata dalla regione. Sgarbi, sottosegretario alla cultura e prosindaco di Urbino, ha mantenuto la promessa di una visita. L'articolo 9 della Costituzione esordisce lo storico dell'arte e dice che la Repubblica difende il paesaggio, significa anche difendere l'integrità. C'è un'integrità della natura che qui è assolutamente evidente, che consola dal fatto che deve essere preservata, come dice appunto la Costituzione. Quando la natura è così libera e aperta, uno deve ringraziare il cielo che essa sia così e non pensare di turbarla. Parole che hanno trovato tanti consensi e speranze. Passiamo sempre alla notizia di Comunale 2024, passiamo a Fano e andiamo direttamente alla pagina 15 di Fano. Liste civiche, le grandi manovre, Lucarelli e Brunori, nuova regia. Noi giovani, noi città e insieme meglio ammettono gli errori e guardano al volontariato. Le liste civiche di centrosinistra non vogliono stare alla finestra. Nel corso di una campagna elettorale praticamente già iniziata, in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, si sono incontrate per concordare una strategia che possa rafforzare il rapporto con la città, in modo particolare con le associazioni e il volontariato. In questo momento, infatti, il centrosinistra è piuttosto diviso su scelte ritenute molto significative per lo sviluppo della città. È stato un incontro proficuo, ha sottolineato Barbara Brunori, perché ha ravvivato l'impegno alla partecipazione con il proposito di ripartire, alla luce di un'esperienza già maturata che comunque ha determinato i suoi frutti. Restiamo sulla pagina di Fano e andiamo alla protesta. La pista di Pamp Track nel parco è un corpo estraneo. Luzzi, voce dei contestatori, il verde urbano è al palo, ma si farà la recinzione. Nell'area del parco, al campo dell'aviazione, sono comparse le recinzioni che delimitano l'area del circuito Pamp Track. I fautori del grande polmone verde avvertono la pista, per appassionati di acrobazione in bicicletta, come una presenza estranea e la considerano un elemento calato dall'altro, improvvisato rispetto alla logica di un progetto partecipato. Queste sono le notizie di Fano ed ancora restiamo nella nostra bella città. Il patrimonio, via Vitruvio, area liberata, ora ripartono le ricerche. Sbloccati i 45 mila euro del MIC dopo il maltempo, intervento finalmente per la sicurezza. E infatti, finalmente si riparte. Dopo aver compiuto tutti gli atti burocratici necessari per l'impiego dei finanziamenti ministeriali, la soprintendenza ha consegnato l'area oggetto di indagini in via Vitruvio alla società di archeologia che aveva già iniziato gli scavi e che aveva fatto la clamorosa scoperta di un ambiente così ricco da ipotizzarne l'appartenenza alla basilica, progettata dal celebre architetto romano. Ora le ricerche, dunque, finalmente potranno ripartire. Sempre a Fano nasce l'associazione Porte Aperte e sono già 41 i soci partecipanti. Avrà sede nella casa della comunità intitolata a Don Paolo Tonucci. La casa della comunità intitolata a Don Paolo Tonucci a rappresentare lo scenario in cui si colloca l'associazione Porte Aperte che è appena nata all'interno della parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato. Tra le finalità dell'associazione Porte Aperte in primo piano quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati delle persone terze. Porte Aperte intende connotarsi anche per l'organizzazione di attività di formazione e di azione sociale sui problemi della realtà locale. Ci spostiamo in Val Cesano. Troppi debiti fuori bilancio e creditori pagati in ritardo. La Corte dei Conti ammonisce l'amministrazione di terre roveresche. Il comune di terre roveresche non rispetta le norme che regolano la gestione dell'andamento finanziario. Troppi debiti fuori bilancio e ritardi nei pagamenti dovuti proprio ai creditori. La sezione regionale della Corte dei Conti gli raccomanda di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile riservandosi in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari futuri di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati. e ci spostiamo a Senigallia dove andiamo invece a parlare di viabilità. Parcheggi pubblici affittati agli alberghi e i turisti non sanno più dove lasciare l'auto. Scoppia la polemica. Tolte anche le aree accanto alla stazione. Olivetti afferma è sempre accaduto. Parcheggi pubblici affittati agli albergatori e i turisti insorgono non sapendo dove lasciare la propria auto. Da quest'anno diverse aree di sosta nel parcheggio della pinettina di Viale Buonopera di fianco alla stazione ferroviaria sono state affittate alle strutture ricettive che ne hanno fatto richiesta per i propri clienti. aree di sosta utili sia per il centro che per la zona centrale del lungomare. E sempre a Senigallia, laboratorio analisi, insulti contro il personale, parliamo di sanità, saltano i nervi agli utenti che non possono prenotare in tempi ragionevoli. L'organizzazione pessima del laboratorio analisi obbliga i pazienti ad andare nelle strutture private. Lamenta il comitato cittadino per la difesa dell'ospedale. Tutti gli operatori sono in grande difficoltà, stressati e pressati dai pazienti. tendono così i pazienti ad andarsene dal servizio. Il cambiamento che avevamo proposto non è stato però preso in considerazione. E ritorniamo ancora alla prima pagina, andiamo a vedere la fotonotizia. in 1995 si sono ritrovati nel podere di case bruciate, raduno di famiglia dopo 50 anni. Ed ecco il raduno di famiglia, i Giorgini di nuovo insieme, in 1995 nell'antico casolare, emoziona la mega rimpatriata di famiglia dopo 50 anni nel podere dei Morselli. Chiudiamo il Corriere Adriatico e andiamo a vedere cosa ci propone invece il Resto del Carlino. Il Resto del Carlino fa una pagina del lunedì molto generalizzata sul territorio Marche. Andiamo un po' a vedere quello che ci riguarda in modo particolare. Sgarbi in missione contro la discarica, ne abbiamo già parlato sul Corriere Adriatico. e ritroviamo a pagina 2 una grandissima inchiesta su questa cosa, anche molto ben sviluppato. La bellezza minacciata di Pesaro, Sgarbi in missione, qui vogliono cacciare Dio per farci una discarica. La bellezza di questo territorio è un patrimonio tutelato dalla Costituzione. Chiederò al sovraintendente di agire ricacciando indietro progetti assurdi. E sempre a Pesaro, al San Bartolo, la rivolta a leva non firmerò mai per un'altra antenna a Fiorenzuola di Focara. Sempre sulle pagine di Pesaro, qui ritroviamo, ecco infatti lo ritroviamo anche in prima pagina, i tanti misteri di Ion, il bombarolo operato per ore rimane gravissimo. I carabinieri hanno passato al setaccio la casa del 37enne romano che maneggiava Tritolo, che poi è esploso. Per ore Ion Oltenau, il 37enne romeno dell'Apsella, rimasto gravemente ferito per l'esplosione di un petardo, in casa. Stava maneggiando l'indagine dei carabinieri, devono ancora accertarsi perché avesse in un trolley un quantitativo notevole di polvere da sparo che a contatto con un prodotto chimico ha poi scatenato la deflagrazione, producendo un buco, pensate, nel tetto. Il 37enne ha riportato conseguenze drammatiche dall'esplodione, la perdita delle mani e ferite gravissime alle gambe, al torace, alla testa, oltre che a moltissime ustioni su tutto il corpo. Sempre la pagina del resto del Carlino su Fano ci propone. Fano, capitale del calciomercato, via alle dirette. Un camion pieno di attrezzature da scaricare ha bloccato ieri mattina per ore via San Francesco a Fano per permettere alla troupe di Sky Sport, appena arrivata in città, di allestire gli studi a cielo aperto da cui per tutta questa settimana sarà trasmessa la fortunatissima trasmissione calciomercato, l'originale. Restiamo sempre a Fano, PD, summit per il segretario e le civiche accendono i motori. Fano, il centro-sinistra, si mobilita in vista del 2024. I DEM cercano di superare le divisioni interne. Il centro-sinistra è in movimento. Da una parte il PD che deve nominare il nuovo segretario, dall'altra le liste civiche del sindaco alla ricerca di una nuova identità con la scadenza a giugno del 2024 del mandato di Massimo Seri. Per risolvere le tensioni interne al PD, Fano, che vanno avanti ormai da alcuni anni, sono scese in campo la segretaria regionale del PD, Chantal Bonprezzi, e quella provinciale, Rosetta Fulvi, che ieri mattina hanno incontrato le delegazioni di IDEM, che ha vinto il congresso e il futuro democratico. L'incontro, commentano Brunoli e Lucarelli, è stato un successo di presente che testimonia il fermento e l'energia del mondo civico nelle città. Un mondo che merita di essere rappresentato da una candidatura a sindaco, ma che prima deve creare un'organizzazione. Lavorare sulle necessità, inquadrando successivamente la figura ideale che sarà in grado di sintetizzare tutte queste peculiarità. Queste sono le notizie principali che ha dato il resto del Carlino, che si è concentrato poi su altri territori, ma noi torniamo al Corriere Adriatico perché andiamo a vedere anche qualche notizia di tipo sportivo. Andiamo allo sport ed ecco che siamo a Fano. Il Fano ha scelto il mister. Ecco l'ex Granata Scorsini. Nella scorsa stagione ha condotto l'Avezzano alla salvezza. Ha giocato nell'Alma in serie C2. Tra i due litiganti, il terzo gode, questo antico proverbio, non è del tutto appropriato per la corsa alla successione di Andrea Mosconi all'Alma, ma rende un po' l'idea sull'imminente investitura di Marco Scorsini a nuovo tecnico dei Fanesi, dopo che si era ipotizzato un duello tra Raffaele Esposito e Davide Ciampielli. E sempre sulle pagine sportive andiamo invece a Fosso Ombrone. A Fosso Ombrone un pareggio che strizza l'occhio alla D. Nell'andata alla finale la Gazzanese si salva al 93esimo, ma i due gol in trasferta valgono il doppio. I biancazzurri salirebbero di categoria vincendo oppure con un pareggio 0-0 o 1-1 domenica in casa. Ed ecco un'altra notizia sempre su Fano. Il Fano esce a testa alta dal confronto con Rimiti. Qui parliamo degli arcionieri, lanciatori arcionieri di Fano hanno fatto soffrire la squadra capolista. Il Fano Baseball 94 è uscito a testa altissima dal doppio scontro con la temuta New Rimini. Sin qui inarrestabile domatrice del girone C della Serie B nazionale. In campo la giovanissima formazione diretta da Rodolfo Dodo, Furiassi e Rumardo Rodriguez non si è mai data per vinta. Sul diamante degli ambiziosi riminesi ed è stata ancora più dentro la partita di quanto non dicano poi i punteggi finali. Ed andiamo a vedere un'altra notizia di una grandissima campionessa, la ginnasta Raffaelli. Raffaelli un poker d'oro, la 19enne ginnasta di Chiaravalle senza rivali nelle finali di cerchio. Palla, clavette e nastro. Tre argenti e un bronzo. Invece per Milena Baldassarri, capitano della squadra di Fabriano. È stato un altro weekend d'oro per Sofia Raffaelli. La doccianno venne di Chiaravalle della ginnastica a Fabriano. Infatti, dopo la conquista sabato sera del titolo di campionessa assoluta 2023, ieri ha vinto altre quattro medaglie d'oro nelle finali di specialità. Molto bene anche il capitano della ginnastica, Fabriano, Milena Baldassarri, vice campionessa italiana assoluta. E ieri tre argento e un bronzo. Io direi che queste sono tutte le notizie di oggi che ci ha dato sia il Corriere Adriatico che il resto del Carlino. Io vi saluto, naturalmente vi rimando a domani mattina dove ci troveremo per la rassegna stampa del martedì. E naturalmente l'informazione torna questa sera alle ore 20 e 30 con occhio alla notizia. Grazie e buona giornata a tutti.